Lei è mai stata a Kansas City? Signora Travers conosce il Missouri? No, devo dire di no. Fa molto freddo laggiù d'inverno, un freddo intenso. E mio padre, Elias Disney, aveva una ditta per le consegne dei quotidiani. Mille copie, due volte al giorno, per l'edizione del mattino e quella della sera. E papà era un uomo d'affari del genere. Risparmia un penny quando puoi, un tipo duro quindi. Lui non impiegava dei garzoni per le consegne, no, no, no. Lui usava me e mio fratello maggiore eroi. Io avevo, avevo otto anni, appena otto anni allora. E come ho detto, gli inverni erano rigidi. E il vecchio Elias non comprava scarpe nuove finché quelle vecchie non erano consunte. Davvero, signora Travers, a volte i cumuli di neve erano più alti di me. E noi avanzavamo nella neve come se fosse melassa. Il freddo e l'umido penetravano nei vestiti e nelle scarpe. E la pelle del viso si squamava. A volte io mi ridestavo, affondato in quella neve, di soprassalto. Come da uno svenimento, o chissà, non lo so. Ed era già ora di andare a scuola. Io ero troppo infreddolito per capire le equazioni e il resto. Poi di nuovo nella neve per tornare a casa prima che facesse buio. La mamma ci faceva cenare. E poi si doveva tornare subito fuori a fare il giro per l'edizione della sera. E' meglio che ti sbrighi, Walt, e porti quei giornali sotto quei portici. E davanti a quelle porte, o papà perderà di nuovo le staffe e ti farà vedere la fibbia della cinghia piccola. Io non glielo racconto per metterle tristezza, signora Travers. Davvero, io amo la mia vita. Credo che sia un miracolo. E amavo mio padre. Era un uomo meraviglioso. Ma è raro che ci sia un giorno in cui io non ripensi a quel bambino di otto anni che consegna giornali e giornali nella neve e al vecchio Elias Disney con la cinghia stretta in pugno. E sono così stanco, signora Travers. Stanco di ricordarmelo in quel modo. Non è stanca anche lei, signora Travers? Abbiamo tutti dei racconti tristi, ma lei non vuole chiudere con la sua storia? Lasciarsela alle spalle e vivere una vita non più legata al passato? Non sono i bambini che lei viene a salvare, ma il padre. Suo padre. Travers Goff. Non so che cosa crede di sapere di me, Walter. Deve averlo amato e ammirato molto per prendere il suo nome. Io... È per lui che ha fatto tutto questo, vero? Tutto. Il perdono, signora Travers. Io l'ho imparato dai suoi libri. Io non devo perdonare mio padre. Era un uomo meraviglioso. No, no, no. Lei deve perdonare Helen Goff. La vita intera è una condanna troppo dura da infliggere a se stessa. La vita intera è una condanna troppo dura da infliggere a se. Grazie.